Sabato pomeriggio ho appreso come molti di voi da internet che erano scattate delle indagini a carico di funzionari e ispettori della Banca d'Italia sul caso che riguarda la Popolare di Spoleto. Nella giornata di lunedì poi abbiamo saputo che tra questi indagati vi è anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. La cosa logicamente ci rattrista moltissimo come cittadini italiani. E speriamo logicamente nella giusto proseguire delle indagini. Però una cosa è certa. Sulla Spoleto più volte abbiamo denunciato che probabilmente il commissariamento voluto da Banca d'Italia e autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze probabilmente era un commissariamento che non andava fatto. Ma perché abbiamo questo dubbio? Abbiamo questo dubbio perché la Banca Popolare di Spoleto fin dal 2010 è una banca che è sempre stata solida. 2500 milioni di impieghi, poco più di 100 di sofferenze e una redditività del 10,3%. E proprio nel 2010 sono partite le prime ispezioni di Banca d'Italia che da quanto si legge poi sull'esito, sulla relazione scritta da Banca d'Italia sembrava già che ci fosse l'intento di far diventare la Spoleto una grande holding guidata da un socio diverso. E' come se Banca d'Italia avesse già l'intenzione di far acquistare da qualcun altro la Banca Popolare di Spoleto. Ecco la cosa è gravissima, è gravissima perché il commissariamento per la sicurezza del sistema bancario e la sicurezza di tutti i risparmiatori dovrebbe essere uno strumento in grado di andare a commissariare, vigilare, condizionare magari anche il comportamento delle banche che stanno male, non delle banche che stanno bene. E questa cosa è successa non solo per la Spoleto ma anche per Bene Banca, un'altra banca che andava bene le cui risorse sono state in parte prelevate e spostate su un'altra banca, la Popolare di Vicenza. Guarda caso una banca che non va troppo bene, una banca mai commissariata, a differenza di queste due invece commissariate. Come il caso appunto di Montepaschi di Siena, mai commissariata, Carigia, mai commissariata. Insomma in Italia siamo il paese dello simor bancario, le banche che vanno bene vengono commissariate, le banche che vanno male no. E le risorse vengono prese e trasferite nelle banche che vanno male. Senza nessun interpello, diciamo così, delle banche stesse, delle governance delle banche stesse che vengono categoricamente falcidiati attraverso il commissariamento. Sulla Popolare di Vicenza, sulla Spoleto, sono tanti interrogativi. Ci sono indagini giudiziarie in corso, a carico della vecchia governance, però ci sono anche dubbi. Perché quando leggiamo sui giornali, l'ho preso dei giornali, e la cosa comunque come cittadino mi lascia perplesso, ma logicamente quando si legge che la scalata era portata avanti da una società il cui socio fondatore era consuocero del procuratore che stava facendo le indagini e che ha fatto partire il dato, qualche dubbio ci viene, però non si può logicamente, e non voglio dire altro, però è una cosa strana, è una cosa molto strana. E poi cosa succede? Che praticamente la banca di Spoleto viene ceduta al Banco Desio, anche qui una banca che sappiamo che qualche problema l'ha avuto. Ma in che direzione stiamo andando? In che direzione vogliamo continuare ad andare? Ora, il fatto che il governatore della Banca d'Italia sia indagato è una cosa gravissima. È un terremoto per la sicurezza del nostro sistema bancario, un terremoto. E mi sembra che non se ne stia parlando. Mi sembra che stiamo utilizzando un comportamento non adatto a questa situazione. È la Banca d'Italia che dovrebbe essere commissariata, non le banche che vanno bene. È una cosa vergognosa. Ora, noi siamo più garantisti dei garantisti, e quindi non diremo nulla fino a quando si concluderanno le indagini, fino a quando non partiranno i processi, però la cosa è veramente, veramente grave. Sappiamo benissimo che il sistema della vigilanza va riformato, noi abbiamo una nostra proposta di legge, dopo la illustrerà meglio Alessio, ma bisogna intervenire anche ora. E Stefano Lucidi, senatore del Movimento 5 Stelle, ci dice come. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono il senatore Stefano Lucidi, doppiamente coinvolto in questa vicenda, perché non soltanto sono un portavoce del Movimento 5 Stelle, ma sono anche l'unico rappresentante in queste istituzioni della città di Spoleto. Quindi doppiamente coinvolto, sia da un punto di vista istituzionale, ma anche affettivo. Allora, io aggiungerò alcuni elementi a questa discussione, e in particolare vorrei sottolineare il fatto che abbiamo già, stiamo lavorando in queste ore, alla redazione di un disegno di legge, che preveda l'istituzione di una commissione d'inchiesta su questo caso. Quindi non soltanto sul caso BPS, ma sulla Banca Italia, sulla gestione, sulle procedure, sulle verifiche, sui controlli in generale, specificatamente per il caso invece che ci sta a cuore, che è questo di queste ultime ore Banca Popolare di Spoleto. Purtroppo questo noi lo faremo sulla falsariga di quanto già avvenuto in passato, ossia io posso mostrarvi qua il disegno di legge per commissione parlamentare d'inchiesta su Banco Tesio e Brianza S.p.A. Ne abbiamo un'altra su Monte dei Paschi di Siena. Abbiamo qua interrogazioni su Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo ancora su Banca Popolare di Vicenza. L'altro ieri c'è stata una risposta da parte della Commissione europea, una nostra interrogazione del nostro deputato europeo Zanni. quindi diciamo la situazione è molto complessa ed estesa, quindi non riguarda soltanto questo e fa emergere un altro problema che si affianca a quello dei controlli interni all'Istituto Banca Nazionale, che sono quelli dei controlli parlamentari, ossia la nostra azione potrebbe essere in qualche modo spuntata perché il Governo non risponde, quindi in qualche maniera è ovviamente complice di questo sistema. quindi sono colpevoli anche il Governo Renzi ma soprattutto la Ministra Boschi che è deputata ai rapporti con il Parlamento che permette che non venga data risposta a queste nostre interrogazioni. Quindi io ritengo che siano assolutamente complici di questo sistema perché non rispondendo, quindi non effettuando quello che sia e non permettendo la nostra azione di controllo si rendono immaterialmente complici di questi fatti. Ultimo segnale che vorrei portare alla vostra attenzione è un altro tema che a noi 5 Stelle sta molto caro, ossia ci sono stati un paio di lanci di agenzia che dichiaravano ma il fatto della Banca Popolare di Spoleto è un fatto marginale, è poca cosa, i problemi per la Banca d'Italia arrivano dall'Europa. Ecco, questo ci fa capire ancora una volta quanto l'alta finanza in realtà diventi bassa finanza fino ad arrivare praticamente terra a terra perché questo ci fa capire quanto è distante questo mondo da quella che è l'economia reale e quelli che sono i cittadini, i correntisti. Qui abbiamo una rappresentanza dei correntisti, abbiamo 21.000 persone che sono persone reali, persone che si svegliano la mattina e vanno a lavorare e queste persone vengono ovviamente dimenticate perché diventano semplicemente una cella in una tabella Excel. Quindi questa mattina noi siamo qua anche per dire che 21.000 persone non sono assolutamente una cella di una tabellina Excel ma sono parte di questo mondo che noi vogliamo tutelare. Grazie. Io ribadisco che anche fino a luglio abbiamo fatto delle interpellanze urgenti in cui mettevamo in discussione dinanzi al governo l'operato e l'indipendenza di alcune operazioni collegate con appunto la Banca d'Italia. Bene, dinanzi a tutto questo il governo non ha dato, non si è mai sentito di dare alcuna risposta. Questo è un atteggiamento connivente e soprattutto alla vigilia di operazioni che sono passate per il Parlamento come quella del Beilin in cui in sostanza anche i correntisti sono esposti alle scelte bancarie. ecco che il governo deve farsi carico di un'operazione di trasparenza riguardante tutto il sistema finanziario. Non può venire in Parlamento a sventolare carte e non possiamo più aspettare l'opera della magistratura perché le banche sono quelle che hanno sono i forzieri di tutti i nostri risparmi di tutti i risparmi dei cittadini hanno un ruolo assolutamente sociale nell'economia. Le imprese chiudono per crisi di liquidità sono costretti molti imprenditori di piccole dimensioni purtroppo sono costretti a rientrare di punto in bianco improvvisamente a rimborsare immediatamente i crediti che sono stati elargiti generosamente magari dalle banche al primo accenno di crisi di liquidità di un'impresa magari sana e a fronte di tutto questo noi dobbiamo vedere che il sistema finanziario è protetto e gestito da questo Governo. Questo non è assolutamente più possibile. Non esiste più che il Parlamento venga esautorato delle proprie funzioni ispettive. Noi siamo opposizione, siamo qui a controllare e continueremo la nostra attività ispettiva e pretendiamo sempre più insistentemente risposte dal Governo. non esiste più che alle nostre interpellanze addirittura su materie così importanti in cui addirittura durante il mio intervento facevo riferimento ad un imprenditore che aveva dato un rene pur di sopravvivere, di far sopravvivere la propria impresa, ecco che risponde il sottosegretario all'ambiente dicendo le testuali parole. Quando viene messo in discussione l'operato anche a livello di controllo sui tassi d'usura applicati che le banche applicano sui prestiti agli imprenditori, si sventolano in Parlamento delle carte in cui praticamente il Governo semplicemente sottolinea e ribadisce che la Banca d'Italia gode di indipendenza giuridica e sostanziale e che non vi è nessun problema mai. Allora, di queste cose qua, oggi il Governo deve dare assolutamente spiegazione e risposta. Grazie. Grazie Carla. A questa conferenza stampa abbiamo degli ospiti a cui adesso cedo la parola. Abbiamo Carlo Ugolino, presidente della Aspo Credit, l'associazione che riunisce appunto i soci della Spoleto Credit e Servizi. E poi abbiamo Elio Rannutti che ci dà comunque il suo parere su quanto è successo. Grazie. Buongiorno. Grazie al Movimento e al Senatore Rannutti per l'occasione che viene data alla nostra associazione di avere uno spazio e una visibilità importante perché di questo vi ringraziamo immensamente. Noi, a nostra inzaputa, siamo diventati improvvisamente notizia sarebbe stato meglio non esserlo notizia perché probabilmente non saremmo qui a perorare una causa per 21.000 soci che giustamente come veniva detto si sono visti dalla sera alla mattina semplicemente per motivi che ancora qualcuno ci deve spiegare proprietari di una banca per il 51% una banca che risale al 1895 una banca che nasce nel 1895 e dopo un anno di attività era una cooperativa già allora e erano 264 i soci di quel momento quindi da allora abbiamo superato due guerre mondiali eccetera non siamo stati capaci di superare purtroppo ai noi il commissariamento della Banca d'Italia noi quello che chiediamo l'abbiamo scritto anche al Presidente Mattarella noi chiediamo attenzione e quindi siamo qui io sono qui ma rappresento il Consiglio Direttivo della nostra associazione dove ci sono alcuni esponenti ci sono anche alcuni soci importanti che sono presenti perché quello che giustamente diceva la parlamentare prima dalla sera alla mattina la banca chiama perché ci dice quelle che erano le quote che erano messe a diciamo a garanzia del prestito oppure di altre cose siccome Banco Desio ci ha scritto una lettera dove dice che siccome è un rischio è un titolo ad alto rischio non ha valore perché non c'è mercato e quindi non vale più niente ma stiamo scherzando ha detto una cosa giustissima significa che dalla sera alla mattina noi ci troviamo nella condizione e poi non è che lo dice Carlo Colini così non si arrabbia nessuno perché io sono anche un socio un correntista lo sono io mia moglie mio padre mia madre 161.000 di correntisti ce ne stanno alla Banca Popolare di Spoleto non uno quindi noi quello che diciamo è attenzione perché pensare di andare e trovare una banca che comunque come stavo detto all'inizio forse qualche problema ce l'avrà anche avuto ma sicuramente non sono quelli che sono stati elencati di banche molto più grandi della nostra ma con gravissimi problemi noi non lo so probabilmente eravamo perché eravamo una banca diffusa sul territorio perché eravamo una banca che aveva 110 sportelli e che guardava su tutta la zona del centro Italia e si affacciava in Lombardia in Piemonte cioè non lo so io probabilmente noi eravamo eravamo siamo una banca perché la banca comunque è comunque un valore per il nostro territorio ha dato era il volano del territorio non solo della città di Spoleto da cui prende il nome ma dell'Umbria intera dell'Umbria delle Marche dell'Abruzzo del Lazio perché questo era lo sviluppo naturale che la banca ha avuto in questo oltre 100 anni di storia che ci portiamo sulle spalle noi quello che chiediamo è innanzitutto esprimiamo un grandissimo grazie a una procura seppur piccola ma che e seppur tra tante difficoltà ha preso con impegno quell'esposto che abbiamo prodotto insieme ad altri soci e sta lavorando alla cremente quindi un plauso al lavoro svolto anche dalla magistratura ha ragione chi diceva prima che non bisogna aspettare la magistratura perché queste cose non debbono accadere perché il male che può essere cagionato da situazioni e modalità prese non sul territorio ma prese in altri ambiti danneggiano e distruggono tutto un tessuto sociale noi siamo qui per rappresentare quella che è la necessità di un tessuto sociale che ha costruito e caratterizzato il volano di una regione delle regioni di Emitrofe vederlo oggi senza questa opportunità questo ci dispiace molto poi io faccio passatemi una battuta io sono un uomo comune e probabilmente non sono molto abituato a questo tipo di cose generalmente quando a qualcuno un'istituzione gli espropia o la casa o un terreno generalmente riceve un indennizzo noi non solo ci hanno espropriato la banca ma ci hanno caricato un ulteriore debito di 15 milioni di euro nei confronti al Monte dei Paschi io per carità di Dio ma il Monte dei Paschi era socio come è socio Carlo Colini Gilberto Stella la Cascina cioè è socio come siamo soci noi perché il Monte dei Paschi io e tutti gli altri dovremmo dare 15 milioni di euro e a Carlo Colini ai 21 mila soci scusate 20 mila meno il Monte dei Paschi perché comunque è un socio anche se ci aveva 30 milioni di euro di quote io quello che dico la stranezza per noi è questa noi ci siamo nella condizione in cui ci hanno espropriato di una cosa non abbiamo avuto nulla anzi siamo diventati debitori non riusciamo a comprenderne il motivo quindi noi chiediamo e chiederemo questo mi fa piacere voglio utilizzare grazie a questa opportunità che ci è stata data utilizzare questo spazio per dire che noi la settimana prossima faremo una lettera al nostro Presidente della Repubblica già l'abbiamo fatta ne faremo un'altra per chiedere un incontro per chiedere quell'attenzione che giustamente avete sottolineato per chiedere e dire noi paghiamo le imposte facciamo tutto quello che dobbiamo fare quindi anche noi come il Presidente della Banca d'Italia vorremmo poter spiegare al nostro Presidente della Repubblica quali sono le motivazioni che ci hanno portato a lottare dal 2013 a oggi e lo faremo domani dopo domani e fino a che ne avremo la forza questo sicuramente per dire quali sono le nostre ragioni quindi io la termino qui perché non voglio rubare altro spazio e grazie e speriamo di trovare presto le soluzioni grazie 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 mille all'Avvocato Ugolini il fatto è questo che sembra proprio che Ministero e Ministero e Banca d'Italia al posto che fare gli interessi di tutti i risparmiatori abbiano anzi abbiano confuso gli interessi di tutti i risparmiatori con gli interessi di pochi investitori perché alla fine ci troviamo che i vecchi soci saranno costretti anche a indennizzare appunto un altro vecchio socio ci sembra veramente una cosa veramente strana ora cedo la parola al professor Federico Federico Tedeschini che ha seguito molto da vicino il ricorso verso appunto il Consiglio di Stato grazie non per vantarmi ma ho seguito anche il ricorso al TAR dove ho perso bene io non essendo un penalista ma solo un amministrativista non entro nella vicenda penale resto un garantista inguaribile quindi per me tutti sono innocenti fino a prova contraria però dal punto di vista amministrativo questa vicenda di stranezze ne ha tante per non farvi perdere tempo non vi racconto quelle che hanno esitato nel commissariamento ma vi racconto l'ultima l'ultima è abbastanza singolare e altrettanto incredibile perché a fronte del provvedimento della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il commissariamento per ragioni che tutti conoscete una formale e cioè l'appiattimento del Ministero dell'Economia sulla proposta della Banca d'Italia senza alcuna istruttoria sul comportamento della vigilanza e una sostanziale quella afferente la mancata presa in considerazione di una offerta più vantaggiosa per la Banca che cosa è avvenuto che ancora Banca d'Italia e Ministero dell'Economia hanno reiterato ora per allora il provvedimento di commissariamento e lo hanno fatto quando tutto era stato già compiuto da amministrativista mi sono chiesto perché lo hanno fatto tenete conto che è un atto sostanzialmente inutile perché il codice del processo amministrativo spiega che provvedimenti reiterati in presenza di una sentenza che annulla il provvedimento precedente non sono a loro volta annullabili sono puramente e semplicemente nulli tanto è vero che noi abbiamo impugnato anche questo secondo provvedimento ma non abbiamo chiesto la sospensiva perché non ce l'avrebbero data in quanto mancava il danno grave ed irreparabile primo perché ormai i fatti erano compiuti secondo perché un provvedimento nullo a differenza di un provvedimento annullabile è anche inefficace essendo nullo l'abbiamo però impugnata dicevo per tuziorismo questa è l'espressione brutta che noi avvocati utilizziamo perché il primo dicembre quando di nuovo il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi sulla mancata ottemperanza al provvedimento alla sentenza di annullamento non arrivassero l'avvocatura dello Stato e l'avvocatura della Banca d'Italia a dirci ma guardate noi abbiamo ottemperato perché abbiamo rifatto il provvedimento che ci sembrava corretto e questa è sinceramente una stranezza non vado a fare processi alle intenzioni secondo me è stata più frutto di una erronea visione della vicenda in termini di diritto amministrativo che altro però la stranezza c'è tutta perché vi assicuro che io in 40 anni di professione è la prima volta che vedo reiterare un provvedimento annullato dal Consiglio di Stato con la formula ora per allora proprio la prima volta in assoluto ho visto provvedimenti reiterati ora per allora ma quando c'erano da emendare dei vizi formali che ne so la mancata acquisizione di un parere obbligatorio roba del genere questo provvedimento di commissariamento per come è stato annullato dal giudice e quindi per me valgono le parole del giudice non l'opinione poco autorevole di Tedeschini per come è stato annullato dal giudice doveva semplicemente essere oggetto di spontaneo adempimento cioè sarebbe bastato che l'amministrazione chiamasse le parti in causa Ivi compreso il Banco Desio che se l'è candidamente cavata con un comunicato stampa in cui ha detto io sono un terzo in buona fede quindi che vogliono da me ma quale terzo in buona fede questa vicenda ha avuto uno strepito sfori su tutti i giornali nazionali noi abbiamo mandato una diffida al Ministero dell'Economia e alla Banca d'Italia di astenersi dall'alienare l'asset Banca di Spoleto società credito e servizi prima della decisione finale del giudice possibile che nella trattativa che è stata compiuta dove quando come perché non lo so e che ha esitato nella vendita l'acquirente usando quella che noi chiamiamo la ordinaria diligenza non abbia chiesto ma per caso c'è qualche contestazione in piedi sugli atti di commissariamento per caso qualcuno si è lamentato qui non si sono lamentati solo gli amministratori che potevano essere obiettivamente dei soggetti come dire parti in causa che avevano tutto l'interesse personale a ottenere come hanno poi ottenuto l'annullamento ma qui c'erano i 20.000 e passa soci i 20.000 e passa soci poveretti come ricordava il presidente non solo hanno subito una espropriazione senza indennizzo che è costituzionalmente illegittima e dico solo costituzionalmente illegittima senza richiamare anche la normativa europea quella sui sulla protezione dei diritti fondamentali dell'individuo ma addirittura si trovano gravati di un ulteriore debito questa per la verità è un aggravio che non vi porterà conseguenze pratiche perché essendo società cooperativa ma di capitali nessuno vi chiederà altri soldi state tranquilli però una cosa è sicura che una serie di persone di Spoleto hanno investito i loro risparmi più o meno sudati in questa che ritenevano una scelta profittevole perché la banca che andava bene ad un certo punto si sono trovati zero e come beffa perché per fortuna è solo una beffa anche l'aggravio di un debito come dire guardate fermiamoci qua perché se continuate noi proviamo anche a chiedervi dei soldi e non escludo che se non ci fosse stata la famosa o famigerata sentenza di annullamento Banco Desio avrebbe provato a domandare ulteriori soldi ai soci probabilmente provando a dimostrare che Costoro o alcuni di Costoro avevano agito coinvolgendo tutti gli altri per difetto di vigilanza privata in azioni che erano come noi diciamo ultravires cioè oltre i compiti che erano stati assegnati l'altra stranezza che dimenticavo stavo dimenticando di segnalarvi ma ve la segnalo la Banca d'Italia poteva tranquillamente tranquillamente diciamo poteva sicuramente commissariare la banca doveva farlo legittimamente ma lo poteva fare ma che diavolo c'entra il commissariamento di una cooperativa hai voglia a dire che la cooperativa essendo proprietaria di un istituto di credito faceva indirettamente credito il fare indirettamente qualcosa equivale dal punto di vista giuridico a non farla quindi queste due stranezze sicuramente hanno colpito la procura della Repubblica quello che mi sorprende però è che non abbiano ancora colpito la Corte dei Conti la quale è stata informata due anni fa da me con un atto notificato la quale ho detto attenzione perché il comportamento dell'autorità di vigilanza rischia di creare lesione di interessi legittimi risarcibili non mi hanno proprio filato di pezza per dirla in un italiano poco accademico non è successo niente quindi è molto singolare che il giudice contabile non abbia ritenuto di intervenire ben prima del magistrato penale e ben prima del giudice amministrativo per mettere il naso in una questione e magari dire che andava tutto bene che loro meritavano di essere commissariati io sono abituato a rispettare le determinazioni delle autorità perché hanno una motivazione e quando la motivazione mi convince perché mi arrendo nessuno vuole fare le guerre alla Don Quixote questa vicenda è sicuramente molto particolare e molto strana io mi sono fatto un'idea non ho prove per cui ve la butto lì e sono pronto ad essere smentito magari mi smentissero che la Banca di Spoleto come tante altre istituzioni finanziarie italiane è stata sacrificata per contenere al massimo la esposizione debitoria del Monte dei Paschi di Siena cioè qui la Banca d'Italia non è stata come doveva essere arbitro ma ha cercato con le sue scelte di favorire la posizione del Monte dei Paschi facendola pagare alle banche piccole guardate che nei processi capitalistici questo avviene sempre la balena mangia il pesciolino più piccolo la catena alimentare quella che studiamo alle elementari quindi voi avete avuto una colpa grave quella di trovarvi nel posto sbagliato al momento sbagliato di avere un socio questo sì un socio che ha cercato di risucchiarvi per diminuire la sua esposizione debitoria che era una esposizione enorme e c'è da capire come è possibile che in presenza di un mercato regolato come è il mercato del credito sia stato possibile arrivare a quella esposizione debitoria senza che nulla accadesse salvo le normali ispezioni che vengono fatte dalla vigilanza nel corso degli anni poi c'è sempre lo strumento io non mi accorgo di una cosa e do la colpa del mio errore al soggetto vigilato chiedo di incriminarlo per ostacolo alla vigilanza non si capisce poi l'ostacolo in che consisterebbe visto che è un controllo puramente cartolare che hanno fatto gli hanno nascosto i bilanci gli hanno nascosto gli allegati ai bilanci l'ostacolo alla vigilanza è questo gli hanno nascosto qualche apertura di credito non giustificabile non lo so ma l'ostacolo alla vigilanza credetemi è molto complicato proprio dal punto di vista della materiale commissione del reato una volta che arrivano gli ispettori di Banca d'Italia spesso assistiti dalla Guardia di Finanza mettono i sigilli prendono tutto non avvisano e che ostacoli non ti ho detto qualcosa ma qui non è un dire è un fare è uno scrivere per come funziona il mercato del credito che purtroppo pochi conoscono approfonditamente l'ostacolo alla vigilanza è una specie di reato impossibile o comunque è un reato molto difficile da compiere quindi io devo dire benvenga questa inchiesta benvenga perché non solo dovrebbe mettere in luce i difetti di questo procedimento ma dovrebbe mettere in luce i difetti del procedimento di vigilanza come archetipo cioè sempre di più Banca d'Italia usa dei suoi poteri di vigilanza per scegliere lei i soggetti che debbono intervenire a soccorso degli istituti di credito più o meno in difficoltà molti mi dicono che queste difficoltà non esistevano comunque se esistevano si era trovato il rimedio attraverso scelte di carattere imprenditoriale ammettiamo pure che queste difficoltà esistessero però quello che la Banca d'Italia non poteva fare era dire il problema te lo risolve il signor X anziché il signor Y no tu indicami il problema è anche mio interesse conoscerlo però poi come risolverlo lo scelgo io semmai riconosco che la Banca d'Italia ha il potere di dire il signor Y no per questa questa e questa ragione perché ha capitali di provenienza oscura perché non ha la solidità finanziaria che mi lanta di avere quindi motivandomelo mi sta bene però alla fine la scelta di chi è dell'impresa bancaria perché è una impresa una impresa tutelata dai diritti costituzionali ed europei che sono stati tutti travolti da questa vicenda la Banca d'Italia ha scritto testualmente che lei pretendeva che la governance cambiasse e si è enormemente arrabbiata per il fatto che la governance è accambiata solo apparentemente quando gli amministratori della Banca si sono trasferiti ma si sono trasferiti perché li hanno chiamati non è che si sono trasferiti perché hanno deciso di cambiare voltrona sulla società credito e servizi ho finito ho finito ho finito quindi io mi sono solo limitato in questa sede a segnalarvi le stranezze sulle quali la magistratura penale sta facendo la sua indagine mi sorprende che non abbia iniziato ad operare la magistratura contabile perché qui i danni alla fine chi li pagherà li pagherà il ministero dell'economia prima ancora che la Banca d'Italia perché il provvedimento finale è del ministero dell'economia e se li paga il ministero dell'economia li paghiamo tutti noi sia ben chiaro mi fermo qua grazie 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 al professor Tedeschini che ha chiarito tanti aspetti ma soprattutto grazie al movimento 5 stelle perché vedete io non lo dico per piageria lo dico perché vedo un paese in decomposizione divorato dalla corruzione dalla illegalità ieri arrestata ma stra pasqua c'è stato un solo giornalista presente qui che ha fatta le indagini si chiama Giorgio Meletti del fatto quotidiano e le denunce alla procura della repubblica nel 2012 quando era onnipotente le ha fatte il sottoscritto quindi grazie a 95 stelle grazie a Carlo Ugolini e agli altri che sono qui vittime di una banda d'Italia non di una banca d'Italia di una banda d'Italia che fa molte vittime decide già stato detto da Daniele Pesca di commissariare banche con i conti in ordine come la bene banca vacenna per aiutare Zonin e salvarlo dalla galera decide di non commissariare il monte dei Paschi di Siena decide su Cari Genova decide su Cari Ferrara e vedete molti commissariamenti sono anche lastricati di suicidi Cari Ferrara dopo il commissariamento e questo lo dicono gli atti una persona si è suicidato che era un dirigente perché probabilmente temevano che avesse parlato ora io non dico che i mandanti siano stati loro segnalo solo che c'è stato questo strano suicidio quindi fanno bene i ragazzi del Movimento 5 Stelle Carla Rocca Alessia Villaroso quella della commissione finanze Ferdinando Alberti Daniele Pesco a porre problema della vigilanza non è più possibile il sistema delle porte girevano non è più possibile che un signore come Gianandrea Falchi uomo di Mario Draghi segretario di Draghi vada sia soldato da Zonin perché tra l'altro l'ha detta Carla Prima dal primo gennaio l'ho messa a vigilanza i crack bancari i dissesti li pagheranno azionisti obbligazionisti depositanti guardate Banca delle Marche ma come mai all'insaputa della Banca d'Italia accadono questi fatti il professor Tedeschini ha fatto una lezione anche sull'ho messa a vigilanza ma che cos'è l'ho messa a vigilanza sempre si dice che si nasconde ma che cosa si nasconde quando loro sanno già tutto allora bisogna portare all'attenzione questo problema io chiudo perché professor Tedeschini perché qui abbiamo i tempi contingentati deve parlare ancora Alessio e quindi per le 11 dobbiamo finire no ma faccio notare questo è un paese non solo corrotto ma è un paese dove i miei colleghi giornalisti perché io faccio il giornalista per professione hanno gravissime responsabilità molti di loro invece di fare i cani da guardia dal regime fanno i cani da riporto del regime passano le veline non si chiedono o vengono censurati dalle proprietà oppure si autocensurano vedete oggi uno dei pochi giornali che si può leggere è il fatto quotidiano a pagina 9 di oggi il fatto quotidiano che per primo ha riportato questa indagine il fatto quotidiano cordone sanitario per via nazionale e non si può parlare male della Banca Italia perché se proprio è necessario meglio confinare le notizie nelle breve nei bassi pagina quando però il fatto è troppo enorme il governatore Vischi indagato per il commissariamento scatta il piano B dei giornali del giorno e qui l'elenco la vergogna del sole 24 ore la vergogna dove giornalisti pur preparati vengono assoldati per mistificare e ribaltare la verità e la vergogna è pure un'altra perché questo è un paese appunto va riformato appunto il Movimento 5 Stelle sarà inevitabile che andrà al governo inevitabile perché quando ci sono i potenti i colletti bianchi i banchieri quando la fanno grossa gravissimi reati ottengono sempre i domiciliari a differenza dei poveri Cristi dei ladri di polli che non solo alla gogna vengono sottoposti ma li sbattono in galera e ha fatto bene il Presidente Carlo Golina a dire che si iscriverà al Capo dello Stato Garante della Costituzione Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura perché se un poveretto che viene incriminato e chiede udienza non gliela danno il Governatore Visco Capo della Banda d'Italia viene subito ricevuto e subito scatta il cordone sanitario ecco cari ragazzi quando andrete al governo avete un grande compito ragazzi e ragazze davanti a voi riformare anche la giustizia riformare un sistema che non può più reggere di due pesi e di due misure riformare la vigilanza di una banca d'Italia che ha una vigilanza per gli amici e per le banche sane invece è molto molto diciamo drastica nel fare i commissariamenti qualche giorno fa c'è stato un ulteriore commissariamento un'altra banca la Mediterranea eccetera eccetera queste cose non possono più reggere bisogna riformare questo paese bisogna uscire dalle macerie bisogna combattere la corruzione e l'illegalità grazie ai ragazzi del Movimento 5 Stelle grazie Elio grazie a tutti i partecipanti anche io mi unisco all'amico Elio Lannutti per quanto riguarda la polemica sul Sole 24 Ore perché non so di quale analfabetismo finanziario parlasse il giornalista del Sole 24 Ore visto che i dati stessi di Banca d'Italia parlavano di una banca con poche sofferenze con un indice di redditività molto alto quindi non so che giornali che informazioni abbia preso il giornalista del Sole 24 Ore ma molta gente ripone in quel giornale parecchia fiducia e quindi sarebbe giusto che i giornalisti scrivessero delle cose reali all'interno di quel giornale anche noi lo leggiamo spesso e quindi ci attendiamo magari una smentita anche dallo stesso Sole 24 Ore qui noi parliamo di Banca d'Opola e di Spoleto ma parliamo anche di un sistema di vigilanza di un sistema bancario che non funziona più non funziona più e non funziona più anche perché il governo attuale non ha nessun interesse a farlo funzionare quando noi sappiamo che De Benedetti è la tessera numero uno del PD e gestisce Sorgenia e il ministro Quidi è figlia del proprietario di Ducati Energia ed è ministro dello sviluppo economico e decidono di prorogare e finanziare tramite il capacity payment le aziende di loro stessa proprietà capite bene che allora qualche dubbio come diceva prima il collega Pesco è normale che ci venga stessa cosa avviene all'interno del sistema di Banca d'Italia Banca d'Italia è una banca una società privata una società privata delle quali le quote sono di proprietà delle banche private principalmente delle banche più grosse è proprio lì il problema ci sono alcune banche più vicine alcune banche più lontane e se il mercato del credito dal 1992 è diventato privato e quindi finalmente è diventato appetibile per queste grosse aziende allora capite che è bene che da quel momento è iniziato io lo chiamo Pacman delle piccole banche private Banca d'Italia aiuta alcuni per riuscire poi a farli fondere con queste piccole banche per distruggere le piccole e far crescere le grandi è questo il sistema che è stato delineato fino ad oggi da Banca d'Italia da quando siamo arrivati noi qui nel 2013 abbiamo proprio visto continuare quel progetto iniziato non nel 92 con la privatizzazione del sistema bancario ma addirittura nell'81 con la famosa divisione tra Tesoro e Banca d'Italia conoscerete tutti la lettera tra Andratt e Ciam noi siamo arrivati abbiamo iniziato con il famoso regalo dei 7 miliardi e mezzo a Banca d'Italia Banca d'Italia assolutamente d'accordo il governatore assolutamente d'accordo il ministro il governo Renzi tutti assolutamente d'accordo c'era ancora Letta ma la linea è sempre la stessa lo sapete bene arriviamo quindi queste quote che dal 1936 fino al 1992 in mano pubblica non sono mai state rivalutate sono sempre rimaste da 136 mila euro stranamente poi dopo 20 anni di proprietà privata diventano 7 miliardi e mezzo ci inventano ci raccontano a tutti quanti la favoletta delle banche che d'ora in poi avranno solo il 3% a testa ma chi la vogliono raccontare la vigilanza si sta spostando verso l'Europa sta andando verso la BCE quindi Banca d'Italia sta perdendo quei poteri quindi il vero il vero potere si sta spostando verso la banca centrale europea le banche private sono già all'interno della banca centrale europea quell'operazione serviva per dare 7,5 miliardi di euro alle banche private come intesa San Paolo con Unicredit che guarda caso dopo poco tempo sarebbero dovute andare in Europa a fare i famosi asset quality review ovvero gli stress test grazie a quei 2 miliardi di intesa che ha ricevuto in plus valenza intesa San Paolo e un miliardo non mi ricordo e sei Unicredit capite bene che andare agli asset quality review e gli stress test è molto più facile riuscire a superarli ancora di più cosa succede? succede che Banca d'Italia che oggi con la nuova riforma della BRRD la nuova riforma bancaria ci dice che Banca d'Italia non è è assolutamente indipendente quindi potrà gestire le crisi future Bank Resolution Recovery Board ok però come mai quando si trattava di asset quality review la stessa Banca d'Italia non era indipendente questa è una cosa molto importante quando abbiamo fatto gli stress test ci hanno detto no noi non possiamo usare Banca d'Italia perché BCE non vuole perché non sarebbe indipendente in quanto le quote sono private quando si parlava di 7 miliardi e mezzo era indipendente quando invece stiamo parlando di asset quality review non è più indipendente noi come Parlamento abbiamo dovuto dare 25 milioni di euro correggimi Daniele 25 milioni di euro a delle società private come è stato 25 milioni di euro per far fare il lavoro non a Banca d'Italia che non era più indipendente ma a queste società private guarda caso se andate a vedere la KPMG la Prelios tutte le società che hanno lavorato poi agli asset quality review vedrete che le azioni guarda caso di chi sono sempre delle solite banche legate tramite anche assicurazioni generali tramite vari passaggi di proprietà si arrivava ad avere un conflitto di interesse quasi ancora più forte di quello già esistente in Banca d'Italia dopo questo regalo di 7 miliardi e mezzo che badate bene diventa difficile poi riacquistare le quote perché il progetto è quello di far diventare Banca d'Italia pubblica proprio per evitare questi problemi questi conflitti di interessi questo offuscamento e questi favore verso alcuni soci e non verso altri perché capite bene che l'omessa l'omessa vigilanza di cui si parlava bene di cui si parlava prima significa anche favorire qualcuno e sfavorire qualcun altro ricordiamo che Banca Popolare di Spoleto nel momento in cui è stata commissariata attorno aveva delle banche in situazioni molto più grave anzi dobbiamo dire che Banca d'Italia si è detto che Banca Popolare di Spoleto stava bene però MPS come stava Tercas come stava Banca Popolare di Vicenza come stava noi dobbiamo riformare tutto il sistema bancario totalmente serve un vigilante totalmente indipendente totalmente indipendente serve un sistema bancario suddiviso tra banche commerciali e banche d'affari anche perché appunto con l'introduzione del bail-in quindi col fatto che i correntisti inizieranno a rischiare senza però sapere niente dell'amministrazione della propria banca non lo sapeva Banca d'Italia non lo sapevano i commissari figurate un correntista come può venire a sapere se la banca opera bene o opera male e quindi magari perdere solo se la banca perdere e non vincere se la banca vince quindi Banca Popolare di Spoleto attenzioneremo molto questa vicenda continueremo ad attenzionarla Stefano ha già richiesto una commissione d'inchiesta non solo per Banca Popolare di Spoleto anche per altre banche per altri chimini bancari ma quello l'invito con cui voglio chiudere questo mio intervento è uno ed è molto semplice il governatore se ha rispetto per lo Stato italiano si deve dimettere immediatamente immediatamente deve avere il coraggio di farci capire che si mette da parte perché in questo momento non ci fidiamo più non ci fidavamo già prima ma oggi non possiamo più fidarci sono troppi gli errori fatti da quando è in carica quindi dovrebbe avere il coraggio di farlo da solo se non ha il coraggio io lo facciamo noi l'invito dimettiti cortesemente perché questo paese ha bisogno di un po' di trasparenza limpidezza e onestà grazie 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 grazie